ciao 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 ricciolini come state mi starete chiedendo come mai ricciolini e non più cuoricini perché ho voluto cambiare il nome del canale perché volevo un po cambiare un po tutto ecco scusate l'assenza però ho avuto un anno molto molto brutto chi mi segue magari avrà visto nella community post che ho messo e quindi saprà cosa è successo che adesso non voglio stare qui a parlarne perché primo mi fa male e secondo non voglio rattristire anche gli altri allora magari un giorno quando mi sentirò pronta mi spiegherò un po' di cose allora ho messo il nome con le ASMR visto che ho i capelli ricci e ho voluto cambiare il nome così ecco spero vi piaccia quindi adesso siete i miei ricciolini e non più i miei cuoricini allora questo video è un videoprova perché sto provando il telefono con il microfono è un po' fatica a far funzionare il microfono proietti con questo telefono che ho e quindi facciamo una provetta e facciamo un po' di chiacchiere vi dico un po' di cosine così un po' a random ecco allora intanto mi bevo un po' d'acqua perché ho appena preso le mie pastigliette questa l'ho presa su Shein scusate anche l'inquadratore e tutto quanto è solo perché sto facendo appunto una prova però sono ancora in pigiama e non sono preparata e sto solo facendo una prova allora questa è bellissima se sentite dei rumori mi scuso però sapete sempre quello il problema gli orari tutto quanto adesso il mio vicino qui davanti ha una cavalla quindi bellissima d'altronde però tra l'altro non d'altronde e quindi la sentirete anche in itrile però pazienza allora tornando un po' a questo periodo che ho avuto per passare un po' il tempo e per distrarmi un po' la mente ho fatto un po' di cosine insomma vi faccio vedere qualcosa cioè niente di particolare era solo per perdere il tempo allora mi sono comprata questo lì questo pup qui è A me piacciono un sacco e ho già fatto un altro però non lo trovo più, qui c'è poca roba comunque, vi faccio vedere lo stesso, è bello perché a righe si può scrivere, qui si può mettere la data, qui si può scrivere e poi si può strappare la pagina, ho fatto un po' di strappucchi, qui ho messo una farfalla, qui ho messo dei girasoli, qui ho una ragazza con il girasolo, con una frase che adesso da qui non arrivo a leggere, qui ho un'altra farfalla, poi qui ho messo un mazzo di fiori, qui c'è un biglietto, anche qui un messaggio, e qui c'è la bustina, vedete, è una bustina, e poi questo, in fondo oggi è il giorno che ti faceva paura ieri, ricordalo, qui ho scritto io, e qui era già scritto, però hai scritto in inglese, e per me è come non fosse scritto niente, qui c'è una farfalla, qui c'è un cuore, non so se si vede, un cuore, ecco, e qui si può anche scrivere, qui ho preso il penarello, e scriviamo ciao ai miei ragionini, ciao ai miei ragionini, ciao ai miei ragionini, come state? spero, tutto, 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 bene, un bacione grande, ecco questo è un primo hobby che ho trovato da fare, poi ho trovato da fare anche altro, per alternare un po' le cose, ho anche delle buste con tutti gli adesivi da prendere qui, che mi sono dimenticata di prendere, che vi mostrerò un'altra volta, magari facciamo una paginita assieme, ho preso questi da colorare, è bellissimo questo libro, perché la copertina è tipo gommata, e sono dei mandala, semplici, libro da collocare, e qui c'è un bel mandala, tutto colpaio, bellissimo, 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 spero si senta io, spero di non star parlando, niente, perché io non mi sento nella cuffia, non so come mai, però nel telefono si sente, ho provato ieri a sera, stanotte più che ieri sera, a fare delle prove, vediamo, allora, vi faccio vedere qualcosa che ho fatto, questo, bellissimo, che è il primo, vedete, questo, sarebbe il primo che hanno messo, poi questo, anche questo magari ne coloreremo uno un giorno, assieme, assieme, questo, 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 questi sono abbastanza semplici, vedete, abbastanza larghi, hanno abbastanza spazio, non è difficile farli, e poi ne ho preso un altro, questo l'ho preso su Shein, foresta incantata, e questo però ha un po' più di difficoltà, diciamo, infatti poi ho preso quello, perché non mi rilassavo molto qui, anzi, devo averne fatto pochi qui, ho fatto il pesciolino, non tutto neanche, perché ha tutti questi spazzetti, molto molto, vedete, è molto molto piccolino da colorare, e poi, non so se ho fatto questo gelino, bellissimo, 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 questo, bellissimo, mi piace, mi piace, mi piace questo, è venuto bene, vediamo se non trovo altro, ho iniziato anche la giraffa, si, ho iniziato anche la giraffa, ho iniziato anche la giraffa, no, penso che questo era troppo, scusate, troppo complicato, e magari facciamo qualcosa un giorno, assieme, poi ho preso dei colori, vabbè, questo qua è uno a caso, sono dei colori, perché ne ho presi diversi, adesso ho preso la prima cattolina, che mi ha portato, in mano, e sono dei colori bellissimi, e hanno le doppie punte, non come quelle dei capelli, allora, da una parte c'è una punta, tipo pennello, vedete, tipo pennello, e da questa parte, tipo pennello, normale, colorano benissimo, ed è facile, usarli, poi qui ne ho un altro, per farvi vedere, non ho tutta la scatola, ce n'è uno solo, che anche questo due punte, una fine, e l'altra, più fine, sembra grossa, ma questa colora più sottile dell'altra, per farvi vedere, tipo, questa qui che sembra più grossa, è sottilissima, e questa che sembra più grossa, vedete, la differenza, ecco, e niente, io vi saluto, vi mando un bacio, bacio, questa era una prova, una prova di ritorno, vi mando un bacio, e vi farò dei video, che vi farò vedere, degli acquisti che ho fatto, poi, vediamo, se coloriamo un po' assieme, se avete qualche idea, ditemela, cercherò di fare qualche video, che mi è stato richiesto, tempo fa, e niente, vi saluto, vi mando un bacione, grande, 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 al prossimo video, ciao!